o la sergio ciao pescetto per pescetto di roma pescetto di roma ma sei un romano romano da sette generazioni come si dice quasi sette generazioni di generazioni tu hai sempre vissuto di musica però si diciamo un po di musica e un po di un altro lavoro perché comunque quello era la mia passione e che coltivavo e che non avrei lasciato per nessuna ragione però diciamo che poi dovevo anche avere diciamo il pane e quindi cosa hai fatto quindi lavoravo con una ditta paltatrice per conto delle ferrovie però poi alla sera alla sera diciamo andavo c'era un mio amico che era un piano bar andavo là a cantare e ci ho passato quasi trent'anni quindi stasera insomma sul palco di devoy senior come ti sentirai realizzerò un grande sogno un grande sogno dedicarlo a qualcuno si a mamma mia papà io sono sicura che loro ti vedranno e faranno il tifo per te quindi goditi questo momento canta come tu ti senti e secondo me tu canti dal cuore quindi il palco è tuo grazie grazie a te grazie a te dimmi di riprovare ma non di rinunciare bella bella voce subito la prima nota l'oregano per te si gira ma se tutte le paure è il pescetto che canta mengoni è forte volessero davvero dalle mie spalle mi chiedi adesso di essere sincero io sono questo non ne vado fiero dimmi di riprovare ma non di rinunciare o se l'ultima notte che abbiamo sai io con tutte le altre la cambierei perché so e per te Cambia un amore Questa è l'ultima frase che tanto sai A strapparmi la donna non so di lei Perché solo nel vastuono Cambia un amore Bravo! Grazie a tutti!